ragazzi stavamo scusate ho sbagliato una cosa nel video e devo continuarlo allora eravamo arrivati qua mamma cos'è? no, dia mamma se si può riattaccare insieme al video ok? ok? dia mamma se si può fare due parti del video, capito? eh? comunque continuiamo a prendersi i cacchi avevo visto un trattivo comunque eh? ui so catepo guarda dobbiamo andare uuuuhuu spenniti un altro checkpoint in realtà sono altre cose che potrebbero indire no 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 proviamo di qua eccolo prendiamolo stavolta stavolta non mi scappate eh? allora però che cazzo? allora non sei fermato no no prego no 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 grazie stavolta una e lì due in un secondo spenniti bambini aiuto 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 no 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 Come on, I think we're getting right. 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 We're getting right. Come on, I think we're getting right. Okay. Come on, I think we're getting right. Grazie a tutti Sì lo sapevo Ah qua adesso ci arriva il nuovo flusso Ancora tutto intero Aspetta Oh mamma Ecco il nuovo flusso guardate Questa è una microgliettrice praticamente Sinosfera Ma non parlo con un microgliettrice di cuore Ma no dai Non è tanto Oh di là Qua è aperto Qua è chiuso Lì qua Sì lì qua Sì però Aspetta Allora Sì lì qua Sì lì qua Sì lì qua Bene, dai qua c'è la boss fight, se non mi ricordo male, questa è la boss fight, mi servirà tanto, inizio a fiammere, no, 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 no. Ready to get what's coming to you? Get that one to your dog one fellow. e il mio mio e il mio mio e il mio mio e il 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 mio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.